Settimana scorsa abbiamo visto, magari con una certa fatica a orientarsi, comunque perché è una lezione breve su un argomento che richiederebbe molto più tempo, però quello che abbiamo visto, il succo di quello che abbiamo visto è che esistono problemi difficili, difficili nel senso che non conosciamo soluzioni polinomiali per essi, e questo era ovvio perché abbiamo visto anche problemi in cui l'output è polinomiale, quindi il fatto che esistano dei problemi del genere non ci coglie di sorpresa. Quello che però abbiamo visto è che molti di questi problemi non sembrano così difficili, il commesso viaggiatore, che vedremo oggi più e più volte, non sembra così particolare, eppure è più difficile di tanti altri problemi, nel senso che non conosciamo soluzioni polinomiali. E non solo, tutti quei problemi condividono lo stesso destino, cioè tutti, un gran numero di questi problemi condivide lo stesso destino, ovvero se troviamo una soluzione polinomiale per uno, troviamo una soluzione polinomiale per tutti, e siccome la stiamo cercando da 70 anni, l'idea è che questa soluzione non ci sia. E quindi rimaniamo col cerino acceso, diciamo, nel senso che abbiamo dei problemi che sono importanti, non fatevi, diciamo, ingannare dalla forma a volte giocosa di alcuni di questi problemi, o dalla forma noiosa come può essere independent set, non sembra dire molto, sono problemi che poi hanno forti applicazioni nella realtà. E quindi abbiamo bisogno di meccanismi, tecniche per risolvere questi problemi che chiamiamo intrattabili, e ognuna di queste tecniche non darà una soluzione ideale, cioè in tempo polinomiale, per i problemi, ma agirerà attorno alle difficoltà, o rinunciando alla correttezza, o cercando di ottimizzare per quanto possibile l'output, ma magari solo in alcuni casi particolari. E quindi vedete questi quattro punti, algoritmi pseudopolinomiali, li abbiamo già incontrati, ma voglio completare con un cappello, diciamo, formale, la loro descrizione. Poi vedremo algoritmi di approssimazione. Cosa sono gli algoritmi di approssimazione? Sono algoritmi che danno una garanzia sulla qualità del risultato, senza poter dire che è corretto, però vi danno una garanzia percentuale sul risultato. E poi algoritmi euristici, che sono i preferiti di tutti, cioè algoritmi che sembrano una buona idea, ma non possiamo dimostrare che sono corretti. Anche perché non sono corretti, però danno dei buoni risultati, quindi va bene così. E poi branch and bound, che è un'evoluzione dell'enumerazione, però ancora più curva, con una putatura ancora più, diciamo, forte. Quindi, non potendo avere tutto della vita, rinunciamo a qualcosa, alla generalità. Il problema generale è irrisolubile in tempo polinomiale, ma magari alcuni problemi particolari sono risolubili in tempo polinomiale in maniera efficiente. Ottimalità, quando dico correttezza, intendo rispetto a un ottimo, perché spesso e volentieri guarderemo problemi di massimizzazione o minimizzazione. E quindi non troviamo il massimo vero, ma troviamo qualcosa che ci avvicina molto. E poi formalità, nel senso che voi prendete un algoritmo che vi sembra una buona idea, lo eseguito su dei dataset veri, e quindi lavorato non più in modo matematico e formale, ma lavorate come scienziati, in modo sperimentale. Ok, questo algoritmo non funziona bene con i grafi, ma con i grafi che rappresentano una rete sociale. Funziona bene oppure no? E quanto funziona bene? Allora tirate giù dei dati e ottenete una valutazione di un'euristica, che non è altro che una buona idea, ma che non è veramente l'idea corretta. E poi efficienza, in alcuni casi volete veramente trovare la soluzione ottima, dovrete rinunciare a eseguirla in tempi brevi, però potete cercare di ottimizzare il più possibile il vostro algoritmo che analizza con forza bruta tutti i possibili casi. Sicuramente Branch and Bound, quest'ultima voce, la vediamo settimana prossima e dopo vediamo dove arriviamo.